Ben ritrovati ultimo capitolo di crimini e criminologia di oggi, andiamo a introdurre adesso un altro giallo, un altro mistero, c'è stata una sentenza ma restano ancora tanti, troppi lati oscuri legati a questo caso, vediamo per la rubrica Italia in giallo e nero oggi parliamo di Marta Russo, il mistero della sapienza, così come recita peraltro il titolo del libro del nostro compagno di viaggio per Italia in giallo e nero che è collegato, ovvero Mauro Valentini, giornalista e scrittore, buonasera e ben ritrovato, buonasera a voi, buonasera a tutti, vediamo il titolo, vediamo il libro, la copertina del libro di Mauro Valentini, eccolo qui, con lo stesso titolo, lo abbiamo mutuato, Marta Russo, il mistero della sapienza, ricordiamo prima edizione 2017, giusto Mauro? Sì giusto, 2017 poi è stata fatta una nuova edizione, sempre con la prefazione del nostro amico e compianto Sandro Provisionato. Che poi appunto ci ha lasciato, lui grande sostenitore del famoso teorema di cui si innamora, della tesi, di cui si innamora il PM e porta fino in fondo e qui questo è un caso in cui c'è l'innamoramento della tesi, sostenuto poi da tre strani testimoni che poi andremo ad approfondire uno dopo l'altro Mauro, intanto ti chiedo di rispondere a questo quesito, a questa domanda a proposito dell'innamoramento della tesi e poi vediamo la scheda di presentazione del caso. Sì beh, insomma siamo di fronte obiettivamente a un processo semplicemente indiziario legato a tre testimonianze che come hai anticipato tu sono obiettivamente difficili da credere ma soprattutto, permettimi di dire, difficili da incastrare tra loro. Ci sono delle incongruenze però questo è bastato a condannare i due imputati, Giovanni Scattone e Salvatore Ferraro, a una pena che è per omicidio colposo, un omicidio colposo che però in effetti lascia a sgomenti tutti, sia chi pensa che questo signore di cui fate vedere adesso la foto, Giovanni Scattone sia l'artefice della morte di Marta, sia chi invece non lo pensa, perché insomma una condanna così lieve ha portato però dopo tutta quella trasposizione mediatica che insomma ancora stiamo qui a discutere, a far sì che sia comunque una condanna obiettivamente pesante per loro perché tutta Italia ha conosciuto la loro situazione processuale. L'unica cosa che posso dire è che obiettivamente c'erano tante altre piste da poter seguire ma che gli inquirenti si sono concentrati su quell'aula 6, poi magari cercheremo di entrare un pochino nell'ambito, però insomma concentrati in quell'aula 6 da dove i periti dicono che non può essere stato il luogo dove è partito il colpo, eppure le testimonianze di cui tu hai parlato che arrivano tardi, una a giugno, una ad agosto, l'altra a settembre e mentre l'omicidio di Marta è del 9 maggio del 97, di fatto condanneranno i due imputati, appunto come abbiamo detto, a questa piccola pena per l'omicidio colposo. 9 maggio 1997, ne parlammo l'anno scorso in occasione dei 25 anni, ne sono passati già 26, il 9 maggio scorso sono stati 26 anni da quel fatto gravissimo, quel proiettile vagante che alla Sapienza uccise Marta Russo e allora riassumiamo in breve la vicenda col servizio di Aurora Vena. Il 9 maggio 1997 è una data che ha segnato una generazione di studenti e l'omicidio di Marta Russo, studentessa dell'Università di Roma alla Sapienza, è uno dei casi su cui ancora oggi l'opinione pubblica è molto divisa. Quel venerdì mattina la giovane ragazza, 22enne, ne scritta alla facoltà di giurisprudenza, fu gravemente ferita alla testa da un proiettile calibro 22, mentre insieme all'amica Yolanda Ricci percorreva un vialetto all'interno della città universitaria. La ragazza fu trasportata già in coma al vicino policlinico Umberto I. Cinque giorni dopo, il 14 maggio alle ore 22, i medici constatarono la morte celebrale. Alla fine degli anni 90, l'omicidio della Sapienza è stato al centro di un caso molto complesso, oggetto di enorme rilievo mediatico, sia per il luogo in cui fu perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini. Gli investigatori non sono infatti riusciti a delineare un movente, puntando tra diverse ipotesi non confermate, come lo scambio di persona, il delitto perfetto e il terrorismo. La svolta arrivò grazie alla perizia di una società contattata della procura, la quale stabilì che il colpo era stato esploso dall'aula 6 dell'Istituto di Filosofia del Diritto. Gli inquirenti si concentrarono quindi sulle eventuali presenze in quella stanza quella mattina. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per omicidio colposo aggravato Giovanni Scattone, assistente universitario di Filosofia del Diritto. Alla base della condanna una controversa testimonianza. Il collega Salvatore Ferraro fu dichiarato invece colpevole di favoreggiamento. Secondo i giudici il colpo sarebbe partito per caso, l'arma del delitto però non fu mai ritrovata e i due in tutti questi anni si sono sempre dichiarati innocenti. Il caso Marta Russo, il mistero della sapienza, il servizio di Aurora Vena. Prima di entrare bene nel dettaglio, andando anche così a esaminare i vari protagonisti, chiedo a Mauro Valentini, è finito un po' nel dimenticatoio questo caso? Soprattutto anche per rispetto di Marta se ne parla meno, ma ti commemora pochissimo devo dire Marta Russo, si ricorda quasi per niente, almeno così è stato anche il 9 maggio scorso, forse l'anno scorso un po' di più per i 25 anni. Guarda hai ragione, io ho approcciato a questa storia andando a riprendere le carte processuali in archivio durante il ventennale di questa vicenda e in effetti è vero, c'è stato un silenzio assoluto, probabilmente figlio di un grande rumore che era stato fatto durante gli anni del processo. prima nella scheda, permettimi di fare un complimento spassionato alle schede di Aurora Vena perché sono bellissime e di grande efficacia, lì la perizia aveva constatato il fatto che poteva essere partito da quell'aula 6 lo sparo. Bene, quella perizia lì è stata poi però diciamo sconfessata dal perito del professor Torre che invece ha parlato di un bagno, del bagno di statistica che è posto al piano terra. Ecco, quella perizia lì si basava su un errore e cioè sul fatto che era stata trovata sul davanzale dell'aula 6 una particella di bario e antimonio. Mancava il piombo, quindi mancava un elemento fondamentale, però quella perizia lì, quello stab che era stato fatto sul davanzale e che bisogna dire sono venute positive altre dieci stanze circa. Sì, lo fecero su diverse finestre, da dove poteva essere partito lo sparo, esatto. Esatto, purtroppo Fabio durante il processo d'appello fu ripetuto lo stab, quindi due anni dopo ed era sempre positivo, poi si è scoperto che chiaramente era dovuto all'inquinamento da parte dei freni a disco di alcune macchine, ma questo però ha fatto concentrare gli inquirenti in quell'aula e in quell'aula c'era un telefono e su quel telefono lì erano state fatte due telefonate appena dopo lo sparo e quelle due telefonate le aveva fatte Maria Chiara Lipari che era una delle assistenti del professor romano collega di Scattone e di Ferraro. Bene, da lì gli inquirenti che avevano una pista molto forte, una di quelle che poteva... Questa è Maria Chiara Lipari intanto lo diciamo e quello è il papà che è stato un grande professore. Professore, esatto. Quindi praticamente la pista che c'era iniziale che era stata già indicata dalla Digos perché la Digos interviene immediatamente in questa vicenda perché il 9 maggio è l'anniversario di Aldo Moro. E lo abbiamo infatti ricordato, c'è questa coincidenza anche incredibile. Esatto. E soprattutto il pubblico ministero scambia quella data per il ventennale dell'omicidio di Giorgiana Masi. È un errore perché Giorgiana in realtà viene uccisa il 12 maggio del 77. Questo accende e devo dire in circostanze molto simili, un proiettile che parte da lontano e che colpisce la ragazza purtroppo alla schiena e la uccide. Marta è stata colpita la testa, morirà pochi giorni dopo. Però quello che colpisce è che c'era già una pista investigativa molto forte che metteva sotto la lente degli inquirenti una pista di pulizie che aveva all'interno dei personaggi che ammettono candidamente di far uso di pistole e di armi durante il loro lavoro lì all'università. Bene, quella pista viene abbandonata dopo pochi giorni perché anche se era molto rilevante e aveva molti riscontri, poi dopo ne parleremo, ma viene abbandonata perché quel telefono e la dichiarazione di Maria Chiara Lipari cominciano a diventare quella che in un certo senso diventa l'unica pista possibile, cioè chi c'era in quell'aula mentre Maria Chiara Lipari telefonava. Maria Chiara Lipari all'inizio dice che non c'era nessuno, poi in calzata comincia a dire che ce n'erano uno, poi due, poi tre, si ferma a tre e in quei tre indica Gabriella Alletto che è la segretaria di facoltà. Gabriella Alletto, eccola qui, Gabriella Alletto per un mese circa dirà che lei in quell'aula non c'era, non c'era stata, non c'era, viene pressata con un interrogatorio che viene, devo dire, stigmatizzato un po' da tutti perché viene anche ripreso in uno specialmente quello dell'11 giugno che è molto particolare, anche sulla testa dei figli che non c'è stata, c'è un momento molto drammatico in cui lei viene ripresa che dice che non ci sarà nessuno e qualcuno le dice a questo punto noi la prenderemo per omicida, c'è la famosa frase che dice il PM. Lo dice il PM Italo Ormani per l'esattezza, poi quell'audio video viene anche trasmesso dal processo, viene anche acquisito come prova al processo, ma viene trasmesso in tutte le TV, ma in quel momento, tre giorni dopo, quell'interrogatorio Gabriella Alletto farà una dichiarazione spontanea negli uffici della Dicos e in quella dichiarazione spontanea inserirà Scattone, Ferraro, Liparota e se stessa dentro quell'aula 6. Quindi i personaggi diventano quattro, non più tre, come quelli che diceva Maria Chiara Lipari, non combaciano alcune cose, lei addirittura ricorda che Scattone sposta la tenda davanti a tutti, cioè davanti a quei quattro di cui lei parla, sposta la tenda, si affaccia, mira e spara e Scattone dietro, in qualche modo nasconde l'arma e scappano insieme, scappano per poi ritornare. Io dico solo due cose, primo per sintetizzare, primo il processo dirà che Scattone ha sparato per errore e quindi non combacio assolutamente con la versione di Gabriella Alletto che invece lo vede proprio sparare. Lo vede sparare sporgendosi, poi abbiamo visto ecco non è facile sporgersi, c'è anche un vecchio condizionatore. Esatto, da lì è complicatissimo sparare e vedere Marta. E non farsi vedere da chi è dall'altra parte perché dall'altra parte ci sono altre finestre, ecco qua lo vedete no? Quindi di fronte lo avrebbero visto sparare, nessuno ha mai detto nulla, questo ce l'ha detto anche il professore Enrico Ferri che è dell'unicusano ma che all'epoca era lì, lavorava all'istituto di filosofia del diritto col professor Romano. Esatto, quelle finestre che tu hai fatto vedere in quella foto sono 55, quindi da quelle 55 foto, scusami, finestre nessuno vede sparare. Ma ti dirò di più che Scattone e Ferraro che sono conosciutissimi all'interno della facoltà non vengono visti da nessuno se non da Gabriele Alletto che se ne ricorderà il 14 giugno, se non da Maria Chiara Lipa che se ne ricorderà il 4 agosto, se non da Giuliana Olsai che se ne ricorderà a settembre. Tra l'altro Giuliana Olsai di averli visti al piano di sotto che scappavano e ci sono molte incongruenze riguardo alla sua testimonianza che non combacia con quella di Maria Chiara Lipa e con quella di Gabriele. Tra l'altro ha un ruolo strano, come hai detto tu, soltanto molto tempo dopo dichiarerà questo, però un'altra freccia all'arco dell'accusa diventò. È un'altra freccia all'arco dell'accusa che va a inserire Scattone e Ferraro in quel contesto. Quello che fa impressione è che Scattone e Ferraro sembrerebbero due fantasmi visti solo da questi tre personaggi, mentre invece lì c'erano almeno 250 persone di cui almeno 150 che conoscevano Scattone e Ferraro e che invece diranno di non averli visti. La sensazione che si ha avuto durante il processo è degli indizi molto labili e soprattutto quello che colpisce è che quella finestra lì che adesso era appena passata durante il video, quella finestra dal bagno di statistica, da dove il professor Torre dice che è molto probabile che si sia sparato, in quel bagno, quel giorno, faceva le pulizie un personaggio oltre quelli della ditta di cui abbiamo appena parlato e che poi furono praticamente... Indagio pochissimo, quasi per niente, no? Esatto. Ma uno di quelli che puliva quel bagno lì di statistica quel giorno... Vediamo poi se recuperiamo quell'immagine per vedere la finestra, magari la blocchiamo. La blocchiamo. Bene. Chi faceva le pulizie in quel bagno? Eccola lì. Vedete, è quella a fianco di quel gruppo di persone che sta sotto al muro, davanti alla Mercedes. Esattamente. Esatto. Quella lì è praticamente il punto dove è stata colpita Marta, invece, è riferito a quei quattro che sono lì davanti, in mezzo tra la Mercedes e l'altra macchina bianca che sono lì. Bene. A quella distanza così corta il professor Torre determina, secondo lui, la possibilità che si sia sparato da lì. Bene. In quel bagno, quel giorno, faceva le pulizie un personaggio che è stato due anni dopo protagonista dell'omicidio, Marco, del professor D'Antonio. Del professor D'Antona, di cui parlammo in un'altra puntata di Italia, in giallo e nero. Perfetto. Il professor D'Antonio mi è ucciso nel 99, nel 2001 vengono arrestati tutto il gruppo di fuoco, quest'uomo che non ha fatto parte dell'omicidio vero e proprio, che fu colpito da Antona, da Galesi e da altri, ma non da quest'uomo, che però faceva parte del gruppo, che è stato condannato e che quindi, in qualche modo, ci determina il fatto che all'interno della sapienza, in questi ambiti, diciamo, delle ditte che facevano dei lavori e non solo delle ditte, perché ci sono anche dei dipendenti che furono attenzionati da parte del Ministero, c'era un giro di pistole, di armi e qualcosa di poco chiaro. Qual è l'ipotesi che si può fare, che si fa per logica e che, per errore, nessuno credo volesse sparare a Marta, la tesi fantasiosa dello scambio di persone, insomma è abbastanza... Sì, si è parlato anche di questo, perché era vicino a Yolanda Ricci, il padre Yolanda potrebbe essere un obiettivo... Sì, ma insomma non si spara a due ragazze che sono spalla a spalla, cercando di colpirne una, lì c'era un errore, probabilmente Marta passa, povera Marta passa esattamente in quel preciso secondo, frazione di secondo in cui non sarebbe dovuta passare lì, però lì ci deve essere stato un gioco, una prova, un errore, ma deve essere riferito, secondo me e secondo quello che abbiamo letto, anche con l'avvocato che mi ha aiutato, Emanuella Santini che saluto da qui, è che abbiamo, ci siamo resi conto che le prove nei confronti di Scattone e Ferraro praticamente non esistevano, quindi tutto il processo si è fondato su quelle tre testimonianze che però io ho analizzato, ma vedi devo dire non solo io, quando ho tirato fuori quei fascicoli sembravamo dei pazzi che stavamo cercando di raccontare una storia quando c'era già una storia, ma poi adesso dopo quel libro mi prendo, permettimi insomma il merito di aver riaperto quelle carte, ci sono stati altri lavori molto interessanti come Polvere, quel podcast, è stata fatta una serie tv su Netflix, insomma questa storia ha colpito per l'ambito, per la questione non solo per il dramma di aver perso una ragazza merigliosa come Marta, ma anche per le incongruenze e anche per il fatto che c'è un meccanismo, un ingranaggio che non ha funzionato durante il processo per Marta Russo. Mi dispiace doverlo dire, ma rileggendo quelle carte, rivedendo anche gli atti e soprattutto anche, permettimi, riguardando a un giorno in pretura tutto il materiale che c'è da un punto di vista proprio video riguardo a quel processo, ci si rende conto che questa storia, come diceva Sandro provvisionato, è figlia di un innamoramento della tesi e come dice lui nella prefazione del libro che io ho scritto, per Marta non è stata fatta vera giustizia. Ecco, peraltro se non l'avete vista la consiglio, la serie, sono due puntate, Marta, a proposito di quello che ricordava prima Mauro Valentini, questa serie Netflix, che poi peraltro credo sia anche, abbiamo una compartecipazione, la Rai che si può trovare anche su Rai Play, ma rende molto bene l'idea di come poi furono condotte le indagini, soprattutto dopo quella famosa telefonata, accertato che ci fu una telefonata partita dall'Aula 6 di Filosofia del Diritto. Io, rivedendo quelle immagini, ho trovato particolarmente, uso un termine forte, ridicola, quella messa in scena, fatta dai magistrati, con Chiara Lipari che sta lì e deve indicare con tanto di manichini come era la disposizione delle persone. Lei che aveva detto che non c'era nessuno nell'Aula inizialmente, poi fa fatica a ricordare chi stava alla finestra, le posizionano un manichino da una parte, un manichino dall'altra. Tutto questo è assurdo se consideriamo che prima si era appurato, scoperto che c'era gente che usava le pistole senza problemi, la ditta delle pulizie, ma anche un bibliotecario che era amante e appassionato di armi e che c'erano i fori. Che patteggia pure, che patteggia già una, durante proprio quegli istanti lì, patteggia una pena per detenzione abusiva d'armi. Ecco, poi i fori proprio di proiettile sulle grondaie di alcuni stabili dell'università, che pare che di notte la ditta delle pulizie che effettuava i lavori, ovviamente con l'università chiusa, questi si dilettassero a sparare verso le grondaie o altri posti, tanto per divertimento. Allora una volta appurato questo come si fa a non indagare su di loro? Questo a me stupisce. Il colpo di scena più grande però, permettimi di tutta questa vicenda, esce fuori durante il processo, cioè si parla di due telefonate di Maria Chiara Lipari, messe a distanza di quattro minuti. All'inizio si dice questo, lei fa due telefonate, una al padre, una al alla madre a distanza di quattro minuti. Bene, in quei quattro minuti lei poi, durante le dichiarazioni spontanee che farà mesi dopo, dirà che tra quella telefonata e l'altra lei ha visto scattone Ferraro e ha visto muoversi Gabriella Letto e Liparota, l'altro imputato che poi verrà sotto verso il fax con un fare diverso. Eccoli Parota. Ma durante il processo viene fuori il vero tabulato che esclude che quei quattro minuti ci siano, cioè lei in quei quattro minuti mette tutti dentro, tutti i protagonisti dentro quella scena, ma quei quattro minuti non esistono perché il nuovo tabulato dirà che tra una telefonata e l'altra sono passati semplicemente pochi secondi. Questo però esce fuori durante il processo. Come esce fuori prima della sentenza di Cassazione il fatto che uno delle polizie fosse uno del gruppo che viene condannato per l'omicidio da Antona. Tutti questi indicatori avrebbero dovuto portare almeno a una sentenza che ricordo sempre, lo ricordiamo sempre qui da questi microfoni da questa tv, deve essere oltre ogni ragionevole. Esattamente. Qui di dubbi ce ne sono, io ne ho contati 18, ci sono 18 punti che non collimano, eppure viene emessa una condanna che viene poi confermata dalla Cassazione per omicidio colposo. Ripeto, dando per scontato che la testimonianza della signora Alletto che ha visto sparare scattone è vera per metà, cioè è vera quando lei dice che lui era lì con l'arma, non è vera perché lei racconta che lui si è esporto, mirato, spostato la tenda, sparato e poi ritratto, mentre invece la sentenza ci dirà alla fine che scattone nell'atto di mostrare l'arma a Ferraro gli è partito un colpo. Ora io vi sfido a mostrare l'arma così come state facendo vedere voi e a mostrare l'arma a uno che è dentro la stanza a mostrargliela mettendola fuori. All'università poi, non a casa tua. All'università. In un'aula universitaria. Di venerdì alle 11.40 di mattina. Siamo veramente qui sotto, qui sotto c'è un passaggio continuo e di fronte a quella finestra ci sono delle scale che vengono usate come zona fumatori. All'epoca e anche adesso, se ci passate ancora adesso, a distanza di tutti questi anni, troverete una marea di studenti che sono lì appoggiati. Bene, nessuno vede il tonfo, il colpo, probabilmente un silenziatore viene udito da pochissime persone, viene udito da Yolanda che lo riconosce, l'amica Yolanda Ricci, l'amica di Marta, lo riconosce solo perché lei dirà al processo che conosce i colpi di pistola perché il padre aveva sparato, non so per quale motivo. Sì, a Capodanno. Tipo in occasione a Capodanno usava la pistola. Ora, per carità, indicare il papà di Yolanda come uno che va a sparare in giro a Capodanno, erano in campagna, mi sembra di aver... Insomma, comunque lei grida che c'è stato un colpo. Gli altri che sono attorno dicono che non è vero, tant'è che pensano che Marta sia stata colpita da un malore. Bene, ci sono così tante incongruenze, ripeto, oltre 18, che determinerebbero una sentenza diversa da quella che poteva essere e che invece purtroppo non è stata. Questo lo dico purtroppo non perché voglia difendere l'innocenza o la non colpevolezza di Scattone e Ferraro. Ma perché se è così, colui che ha sparato a Marta l'ha fatta franca. Grazie a Mauro Valentini per quest'altro appuntamento con Italia in giallo e nero, il caso Marta Russo, il mistero, ancora oggi, 26 anni dopo della Sapienza. Ci rivediamo domenica prossima. Grazie a voi e un saluto a tutti.